Isola dei Famosi 2023, il cast completo, non sono le sorelle Nardu, presenti e Alice. Dopo mesi di rumors è stato svelato il cast ufficiale dell'Isola dei Famosi 2023. Il reality show, che quest'anno giunge alla sua diciassettesima edizione, vedrà sbarcare su una spiaggia tropicale un gruppo di VIP pronti a sfidarsi per la conquista del titolo di Naufrago o Naufraga più resistente. Al contrario da quanto si era vociferato nelle ultime settimane, non sono presenti nel cast, le sorelle Elga e Serena Nardu. Ad annunciare il cast completo è stato il settimanale TV Sorrisi e Canzoni il quale, attraverso un post Instagram ha reso noti i nomi dei personaggi che presto sbarcheranno in Honduras. A condurre l'edizione dell'Isola dei Famosi 2023 ci sarà Larry Blasi insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In Honduras invece, nei panni di inviato ci sarà Alvin. Il cast è composto da otto uomini e otto donne, per un totale di sedicina Ufraghi. Per quanto riguarda i concorrenti uomini ci saranno, Marco Predolin, noto conduttore televisivo. Già conosciuto anche per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Successivamente ci sarà anche Andrea Locicero. Ex volto delle rugby italiano e attualmente conduttore televisivo. Ad arricchire il cast saranno presente anche il noto giornalista. Alessandro Cecchi Paone, insieme al suo compagno, Simone Antolini. Sempre per quanto riguarda gli uomini dell'Isola dei Famosi 2023. Ci sarà anche il duo della radio Paolo Noise e Marco Mazzoli, seguiti poi da Christopher Leoni, attore e modello brasiliano. A completare il cast maschile ci sarà Fabio Ricci, la voce maschile del duo dei Alice. Per quanto riguarda invece il cast delle donne ci sarà Fiore Argento, figlia del regista Dario Argento e sorella di Asia Argento. Ci sarà anche l'attrice Keryn Clary. Spazio poi alla modella Elena Prestes, la quale non ha mai partecipato a nessun reality show, Pamela Camassa. Fidenzata del conduttore Filippo Bisciglia. A completare il cast delle donne sono Natali Caldonazzo, Claudia Motta, l'ex suora di The Voice Cristina Scuccia e... Infine, Alessandra Drusian, voce femminile degli Alice. Stando a quanto anticipato dalla conduttrice Ilari Blasi, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi avrà anche alcune novità. I naufraghi infatti saranno divisi in tre tribù, una composta solo dalle donne. Un'altra invece è composta di soli uomini e la terza tribù sarà quella delle coppie. La prima puntata andrà in onda lunedì 17 aprile, video, 2023 in prima serata su Canale 5. Dumele tante printre talea culte, incerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rup capete, lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, fie egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din toți, o toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un... La revedere!